Bentornati sul canale giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Elena Dammario è rimasta letteralmente a bocca aperta vedendo come è stata ridotta la sua auto La ballerina è rimasta senza parole per via dei due protagonisti di Amici, colpevoli di quanto accaduto. La professionista di ballo di Amici di Maria De Filippi non poteva credere ai suoi occhi quando ha trovato la sua macchina così ridotta Subito però ha capito di chi è la responsabilità di questo gesto Sono stati due dei volti della scuola di Canale 5 a far trovare ad Elena Dammario la sua automobile in una condizione del tutto inaspettata. Scopriamo subito tutto quello che è successo.Elena Dammario sconvolta per quello che hanno fatto alla sua auto Elena Dammario ha cominciato a ballare sin da quando era una bambina di appena 6 anni Nel 2010 ha coronato il sogno di diventare una delle allieve della classe di danza di Amici e successivamente si è trasferita negli Stati Uniti Volando verso gli USA grazie alla borsa di studio presso la Parsons Dance, la Dammario è riuscita a diventare prima ballerina Da allora ha collezionato tantissime esperienze importanti sia in Italia che all'estero, diventando una delle ballerine più richieste Dall'anno 2020 è una delle ballerine professionisti del talent show che l'ha lanciata oltre 10 anni fa Negli ultimi giorni Elena è stata vittima di un gesto eclatante che l'ha sconvolta Scopriamo subito cosa è accaduto e chi è l'artefice dell'accaduto Ecco chi è stato. Vedi che abbiamo regalato la macchina nuova. Ha esordito così, provocatoriamente il ballerino o professionista di Amici Giuseppe Gioffre Elena Dammario a quel punto, avvicinandosi alla sua auto ha notato un enorme peluche dalle sembianze di un orso e si è accorta che la sua macchina bianca era stata completamente rivestita da posti colorati e addobbi vistosi Guardando cosa avevano combinato all'automobile, lei è rimasta senza parole per qualche istante e poi, chiaramente, ha capito subito chi è stato l'artefice di questo scherzo goliardico A pensare a una trovata simile e a sommergere così la macchina sono stati proprio Giuseppe e Jonathan Gerlo Questi sono Giuseppe e Jonathan. Ha esclamato sconvolta ma sorridente la ballerina di Amici di Maria De Filippi rivolgendosi ai passanti, che guardavano incuriositi e immortalavano l'artista mentre, stupita, staccava via alcuni dei bigliettini dalla macchina Si è trattato di uno scherzo affettuoso, dedicato ad Elena dai colleghi e ballerini della scuola di Canale 5 Divertente no? Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video